Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale, io sono Amal e oggi non vi parlerò di capelli, non vi parlerò di trattamenti, ma vi parlerò del boom che ha fatto la canzone di Shakira contro Piqué, il suo ex marito. Io non seguo tantissimo il gossip, però qua in Spagna ha fatto un boom pazzesco tra i gamers, tra il fantacalcio, tra le persone, tra le donne, cioè Shakira ha dato una rivincita a tutte le donne dell'universo tradite con questa canzone qua. Per chi non conosce lo spagnolo o magari ha capito in maniera generica la canzone e magari dici vabbè non è diretta a lui. Io vi do il succo di questa canzone, io infatti ieri l'ho presa, l'ho tradotta, parola per parola letterale e vi spiego il senso. Non posso mettere la canzone perché il copyright mi bloccheranno questo video e quindi vi do i vari sensi che ci sono. Io l'ho scritta proprio tutta 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 la canzone, ve lo dico tutta, ok? Dunque, perdonami che ho già perso un altro volo o un altro aeroplano. Qui non torno e non voglio un'altra delusione, tanto te la stai dando da campione, ok? Quando avevo bisogno di te hai dato la peggior versione. Scusa piccolo. Già da tempo dovevo buttare via questo gatto. Una lupa come me non era per questo novellino. Una lupa come me non era per tipi come te. Ti stavo grande, ti stavo grande è una traduzione letterale ma realmente ti stavo di misura, ero troppo per te. Questa è la frase giù. Ero troppo per te, è il senso in italiano. Per questo stai con una come te. Questo è per mortificarti, per masticare e diglutire, diglutire e masticare. Già con te non ci torno più e anche se piangi o mi supplichi. Ho capito che non era colpa mia se ti criticano. Io faccio solo musica e scusa se ti spruzzano. Allora, salpiccare in spagnolo significa ti spruzzano, ok? Lui si chiama picche e lei salpicche. salpicche. Cioè, guarda, quando ha tirato questa frase, vi lascerò qua i video dei vari gamers, youtubers, la reazione della gente perché... e tra l'altro nella stessa serata che lei ha pubblicato questo video, c'era un'intervista, lui stava in un'intervista, dove c'era anche il figlio, dove parlava di vari argomenti. La serata stessa è uscita la canzone, non vi dico. Comunque, la storia di Salpicche è il top. Mi hai lasciato da vicina, da suocera e con il giornale alla porta, i giornalisti, il giornale alla porta e debiti col fisco, perché lui ha avuto un problema col fisco qua in Spania dopo la separazione e gli ha detto quei debiti col fisco, wow! Ci credi che mi hai ferita ma mi hai fatta forte? Le donne non piangono ma fatturano, ok? Questa qua è la minima, questa frase qua c'è gente che adesso vogliono attaccarla alle macchine, è favolosa. Questa qua è un'altra parte interessante, perché le dice ha un nome di buona persona, di persona buona, chiaramente non è come suona, chiaramente, lei, la tipa si chiama Clara, che in spagnolo è claramente, e lei ha detto chiaramente, chiaramente, cioè, non puoi dire no, non parlava di loro, vabbè. è uguale a te, per tipi come te, ti sono rimasta grande, sono troppo per te, per questo stai con una come te, ok? Dall'amore all'odio è solo un passo. Qua non tornare, fammi caso, zero rancore piccolo, tutto questo è zero rancore. Te desidero che ti vada bene con la mia presunta sostituta, ok? Non so né cosa ti è successo, stai tanto strano che non ti, eh, ti distingo. Io valgo per due di 22. Questa storia qua di 22, allora, lui sta con una ragazza di 22, c'è chi era mia 44. E tra l'altro, tutte e due sono nati il 02-02, il 2 di febbraio, tutti e due. Infatti lui, nelle partite, faceva sempre, creo, così, faceva così per, riferendosi a loro, e lei ha fatto così al minuto 2 e 22 della canzone. La classe, pura e dura! Comunque, andiamo avanti. Hai scambiato una Ferrari con un Twingo? Ovvio. Hai scambiato un Rolex con Casio? Ok. Questa storia qua del Casio, nel loro sito ufficiale, non so se su Twitter, penso su Twitter, hanno risposto alla canzone di Shakira, dicendo, noi non siamo Rolex, ma almeno noi non ci hanno scambiato con Chiara, tot, la tipa, questa qua. Che risposta massacrante anche questa, però vabbè, sono ritrovati in mezzo. Vabbè, gli dice, stai andando troppo veloce, rallenta, fai troppa palestra, però lavora anche il cervello un pochino. Foto dove mi vedono, qui mi sento una Rehan. Rehan significa ostaggio, qua mi sento ostaggio, per quello che so, che ho capito, lei si è trasferita qua in Spagna per lui, adesso sta tornando a Miami. Come vi ho detto, io non seguo tantissimo il gossip, però questa cosa dovevo troppo spiegarmila. Comunque, mi sento onostaggio, per me tutto bene. Io ti libero, perché disoccupo, ti libero, io ti libero. Il senso di questa frase è che io ti disoccupo maniana, io ti libero domani. Se vuoi portarla, qui viene anche lei, ok? Ha un nome di persona buona, chiaramente non è come suona. Una lupa come me non è per tipi come te. Per tipi come te, per te sono troppo, per questo che stai con una persona come te. Guarda, cioè, lascio a voi i commenti, lascio a voi. Ce l'ha massacrato. Tra l'altro su Twitter, la tipa, questa qua, la Chiara, Clara, aveva lasciato un, prima un commento, tipo sbadigliando, l'ha tolto, ha messo un altro che ballava. Guarda, picche qua in Spagna è impiccato, perché proprio con Grazia Shakira gli hanno tolto un sacco di contratti e è molto criticato, tantissimo criticato, perché Shakira è Shakira e lui, lui, picche picche, perché lei guadagna 35 volte in più di quello che guadagna lui. È una donna forte, è una donna capace, una donna che comunque al di là della situazione in sé, più che altro il tradimento, ragazzi, è un discorso sia una copia che si lascia per varie occasioni, ma lui l'ha fatta grande, cioè, l'ha tradita e lei l'ha beccata, l'ha beccata in pieno. Quindi, sono d'accordo con lei, non sono d'accordo, cioè, io vi porto solamente il boom che sta succedendo qua in Spagna, una canzone di rivincita per tutte le donne tradite, credo, all'universo. Ma il fatto che comunque si è messo con la persona con cui ha tradito, Shakira, viene tanto appoggiato dei genitori e questa cosa qua brucia, brucia tanto, perché comunque si sono sposati per tantissimi anni, hanno figli e comunque eravate una famiglia. Poi succede una cosa del genere, i familiari di lui appoggiano lui per una cavolata. Si dice anche che nella separazione del patrimonio dovrebbe entrare anche la casa dove vivono i genitori, perché si dice che l'hanno comprata insieme, quello che si dice in giro, non so se è vero o meno, però comunque Shakira rimane Shakira, ha preso la palla al balso, ha fatto benissimo, per me ha fatto benissimo far la canzone, perché per lei è un guadagno, per lei sono soldi, per lei è fama e se vuole farlo per il nome della fama, per la vendetta, per ripicca, per quello che ha fatto benissimo, se ci guadagna ha fatto completamente bene, perché comunque lei non ha fatto niente di male e il fatto che comunque sta con uno più piccolo è complicato, molto complicato. Il fatto che lei si trova in una situazione del genere, per chi segue un po' Shakira, Shakira non è per niente stupida. Una donna davvero molto capace, molto, molto, molto intelligente, una imprenditora, una davvero che ha fatto tantissimo bene, perché infatti lei ha un'associazione per aiutare le persone in Colombia, ha fatto bene, ha fatto male, per me ha fatto bene, poi ognuno è libero di fare quello che vuole nella sua vita, ognuno può opinare come vede giusto o sbagliato, però per la mia opinione modesta e personale, sinceramente ha fatto bene. Io non sono con la ripicca, io non sono con la vendetta, io non sono proprio la tipa della vendetta, è piuttosto che io do occhio, è finita, io che mi si separa con un filo, ci costruisco un muro, cioè proprio non metto, però quella sono io, non sono Shakira, ovviamente non guadagno i suoi soldi, non vivo di canzoni, non vivo di niente, quindi la mia opinione non ha nissà un valore, quindi bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e lasciatemi sotto i vostri commenti e se vi piacciono questo tipo di video, ditemelo magari, comincio a informarmi di più. Ciao e buona giornata a tutti!